Buonasera, Ieri sera i nuovi consiglieri comunali, 15 di maggioranza e 9 di opposizione, si sono insediati in consiglio alla presenza del nuovo sindaco Claudio Pistoni e degli assessori. Pistoni, come da regolamento, ha giurato davanti ai presenti. Serena Lenzotti è stata eletta presidente del consiglio. Vicepresidenti Giuseppina Matozza e Claudio Corrado. Ai nostri microfoni, i rappresentanti dei diversi gruppi consigliari spiegano i temi principali per i quali si batteranno. Io credo che il programma di Claudio sia molto chiaro. Questa città deve aprirsi, aprirsi in senso molto ampio, aprirsi nel distretto, quindi cercare di unificare il più possibile i servizi e aprirsi all'esterno. In questi cinque anni, anche i cartelli che sono stati posti all'ingresso della città, secondo me, indicavano una strategia politica assolutamente perdente. Infatti le elezioni, secondo me, si sono vinte anche per questo. La città di Sassuolo per antonomasia esporta in tutto il mondo i propri prodotti, quindi è il caso che si apri mentalmente. Non faccio un caso dei cartelli o quella roba lì, però è il caso che noi parliamo con i mondi che abbiamo attorno. Ho fatto 14 anni all'opposizione, dal 1995 fino al 2009, quindi penso di averlo fatto abbastanza. È un po' come tornare a scuola, poi voglio dire ogni tanto fa bene anche cambiare punto di vista e faremo un'opposizione chiaramente senza sconti, ma faremo anche un'opposizione costruttiva, a differenza forse di chi ci ha preceduto, nel senso che noi non abbiamo nessuna preclusione ideologica nei confronti di nessuno. Se le cose vengono fatte bene, bene. Se le cose vengono fatte male, siamo i primi a dirlo. Questo è il ruolo dell'opposizione. Poi c'è un bene che viene prima di tutti gli altri, che è Sassuolo, e quindi tutto ciò che sarà nell'interesse della città sarà da noi approvato, tutto ciò che invece verrà fatto male no, e saremo qui anche per pungolare sindaco e giunta su quelli che sono dei temi secondo noi importanti. Prima di tutto, il primo fra tutti, quello che è balzato alle cronache anche negli ultimi giorni, è quello della sicurezza. A questo proposito, quali saranno gli altri punti su cui non farete sconti? Sicurezza, SGP, perché già qualcuno dice che il piano concordatario di SGP che avevamo fatto noi sarà approvato dalla maggioranza, e già questo fa riflettere anche sulla campagna elettorale, ma soprattutto non sarà approvato dal Consiglio Comunale, ma dalla Giunta. Se questa voce sarà confermata, chiaramente a quel punto faremo i ricorsi al TAR. La sicurezza e chiaramente il bilancio. C'è qualcuno che ha fatto una campagna dicendo che il bilancio non c'era, io questa sera ne voglio sentire parlare, anche perché è da approvare intanto il 30 luglio con 21 giorni liberi da lasciare i consiglieri per la valutazione, quindi qui siamo già fuori dai tempi. La lista civica Sassuolo 2020 è qui per fare un'opposizione costruttiva. Noi non abbiamo bisogno di vendicarci dei risultati elettorali, non abbiamo bisogno di fare un'opposizione a prescindere, abbiamo bisogno per quello che è nelle nostre possibilità di dare una mano al sindaco, ma anche a tutte le altre forze consigliari a cercare di risolvere un po' i problemi di Sassuolo. Questo è il nostro compito, non abbiamo ambizioni particolari, ma abbiamo comunque voglia di metterci a disposizione della città per dare il nostro contributo. Come abbiamo già annunciato in campagna elettorale, il nostro comunque sarà un dialogo aperto sui temi, quindi qualsiasi punto che toccherà i punti del nostro programma noi lo appoggeremo come è giusto che sia, quindi chiaramente abbiamo un programma che abbiamo presentato in campagna elettorale su determinati punti e se saranno gli stessi che presenterà l'attuale sindaco noi li appoggeremo. Costruire soluzioni, proporre alternative, alternative che non ho trovato sinceramente leggendo il piano di governo quinquennale del sindaco Pistoni e quindi il mio lavoro sarà quello in sala di andare punto per punto a dire la mia. E non dico mia a caso, ma penso che ogni consigliere abbia un pacchetto di idee proprio che debba portare in questo civico consesso come suo compito principale. Ecco, a questo proposito quali saranno i temi su cui combatterete di più? Beh, la città in tutta la sua, il suo essere complesso. Si parla tanto di città distretto e in realtà Sassuolo ha delle esigenze particolari perché lo ripeto all'interno del distretto Sassuolo è incredibilmente atipica, atipica su tutto. Quindi le infrastrutture, le strutture di mobilità, il trasporto pubblico e quello scolastico è necessario rifarlo perché a scadenza, molto breve, il contratto con Seta va rifatto e va rifatto anche in termini più sostenibili. Dopodiché la gestione di tutte le strutture sportive e anche culturali che non sono per niente chiare nei punti di governo presentato e poi uno sguardo al futuro, alle nuove proposte. Durante la seduta, su sollecitazione dell'ex sindaco Luca Caselli che ha chiesto notizie in merito alla moschea, il sindaco Claudio Pistoni ha confermato che il centro di culto di Via Cavour ha ottenuto l'autorizzazione a raprire già lo scorso 16 aprile a seguito della richiesta all'ufficio tecnico da parte dell'Associazione di Cultura Islamica. Già da domani i fedeli pregheranno all'interno della struttura. Sarà Don Giovanni Rossi a guidare l'unità pastorale di San Giorgio alla quale faranno capo anche Sant'Antonio e San Giovanni Newman. Il sacerdote è stato nominato dal vescovo Massimo Camisasca. Rossi è nato a Reggio Emilia il 15 ottobre del 1957. Nella sua lunga esperienza spiccano gli undici anni passati a Correggio. Numeri in crescita per i costruttori italiani di macchine per ceramica nel 2013 Il fatturato si è attestato su 1710 milioni di euro con una crescita del 2,2% sull'anno precedente. A trainare le vendite sono state le esportazioni e hanno registrato un incremento del 5,8%. La suddivisione delle vendite per area geografica risulta abbastanza omogenea con l'Asia al primo posto tra i mercati di export con 221,1 milioni di fatturato. A seguire i paesi del Medio Oriente con 213,7 milioni di euro. Scende al terzo posto l'Unione Europea con un fatturato di 201,2 milioni di euro in flessione dell'8,9%. Le vendite in Italia sono invece calate nel 2013 del 9,9% assestandosi su 343,8 milioni di euro. Passiamo allo sport. Sugli scudi, i podisti di Atletica MDS Panaria Group Gli atleti della società sassolese lo scorso weekend hanno partecipato alla terza edizione del Marina di Cecina Tour corsa podistica valevole anche come campionato italiano di corsa tappe WISP. A concludere il giro, davanti a tutti è stato l'alfiera MDS Tommaso Manfredini davanti all'ex azzurro Gabriele Abate e al compagno di squadra Luca De Francesco. La prima tappa, una 5 km su lungomare di Cecina ha visto l'unica vittoria di Manfredini che nella seconda ha aumentato il vantaggio sui diretti inseguitori lasciando la vittoria al compagno di squadra De Francesco. Grazie per essere stati con noi per oggi è tutto, arrivederci a domani!